Processo Bronx, corta d'appello di Catania, 5 condanne. Nelle aule della corta d'appello di Catania, al termine del processo in secondo grado denominato Bronx 2 per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, che vede dalla sbarra 5 presunti esponenti del clan Bronx di Siracusa. I giudici della corta d'appello di Catania hanno condannato 5 presunti esponenti del clan Bronx di Siracusa accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Giuseppe Scordino, 12 anni, con l'esclusione dell'aggravante di essere stato il promotore dello smercio di droga. Giuseppe Capodieci, 8 anni e 10 mesi. Carmelo Nillo, 7 anni e 3 mesi. Francesco Salemi, 7 anni e 4 mesi. Francesco Capodieci, 5 anni, ex capo del clan, diventato collaboratore di giustizia. Si tratta del secondo troncone dell'inchiesta Bronx coordinata dai magistrati della procura del settore antimafia di Catania su un traffico di droga in un rione della zona nord di Siracusa. Il gruppo si sarebbe servito delle vedette per segnalare l'arrivo delle forze dell'ordine. In primo grado, davanti al gruppo del tribunale di Siracusa, nel processo con il rito abbreviato, le condanne erano state più pesanti. La sentenza è l'epilogo di una lunga e articolata attività di indagine da parte dei carabinieri del nucleo operativo della Compagnia del Capologo, culminata con gli arresti operati nel febbraio del 2020. Dopo la prima operazione, scattata tre anni e dietro, è conclusa nel luglio del 2019 con la condanna a carico di 18 persone per complessivi 188 anni di reclusione. Con l'operazione Bronx 2.0 i militari hanno assestato un altro colpo a coloro che avrebbero continuato a spacciare in via Marco Costanzo, una delle più note e frequentate piazze dello spazio, meglio nota come Bronx.